Il Real Trinacria vince la quattordicesima partita dell'annata e raggiunge la vetta della classifica del gruppo D. Si iniziano a contare nei campionati regionali le giornate che andranno a concludere l'edizione 23-24. Ne mancano tre. Allo scoccare dei verdetti c'è un trittico in testa al momento a fare compagnia ai catanesi, Catane e Ragusa Boys a metà aprile. Sapremo chi la spunterà. Al seminare il Real Trinacria con Pappalardo e Solimena in attacco dall'inizio del tridente con il ruolo di Terzini affidato ad Andò e Guarnaccia mentre San Filippo parte della panchina. Supera in cinque minuti l'ostacolo Dream Soccer. Copertura, spazi difensivi per pericoli con contagoccia di marca vittoriese. Rizzotti, diga centrale, Guarnaccia qui libera in gioco aereo. Alla quarta d'ora scaldato il motore Amaru trascina i suoi sfiorando la traversa con una punizione e poi servendo Di Stefano che alza la mira di testa. Si fa sul serio a partire dal ventesimo cavalca la corsia destra Solimena ma il palo interno gli nega la gioia dell'1-0. Al termine di questo diagonale poi ancora di testa d'angolo di Amaru e sempre di testa ma sul palo opposto Solimena. Su tiro dalla bandierina di Trefiletti occasioni mancate dalla lista lunga che trovano un'eccezione al venticinquesimo. Trefiletti e Pappalardo per lo smista gioco vinci prova. Solimena riceve in verticale Amaru ricama in corsia e Di Stefano finalizza sull'uscita di Di Pasquale. 1-0 per il Real Trinacri e gol numero 13 del centravanti che nella scorsa giornata ad Avolo aveva firmato l'1-0 decisivo. Due minuti più tardi viene sferato il bis da Pappalardo su assist di Solimena. Di Pasquale neutralizza ma nulla può al trentesimo quando sull'ennesimo angolo di Amaru. Emiliano Solimena di testa alla piazza nella parte più remota della porta e fa 2-0. Per l'altro attaccante di casa è il sesto gol personale. Didi Blasi è accetta due tiri non molto distanti dalla porta. La Dream si sveglia troppo tardi e fa i conti con la super protezione difensiva di Andò, Rizzotti e Guarnaccia in un caso e di Ecora in un altro. Tutti interventi che rendono serenità a Butano almeno per il primo tempo. A chiudere la prima frazione una chance per Trefiletti sul cross di Guarnaccia. Niente 3-0 e si ricomincia ma la partita è gestita dall'undici di Mario Pulvirenti senza particolari problemi nella ripresa e con tante possibilità di affondare i colpi. Da questa costruita dalla duo vinci prova Amaru che Pappalardo va vicino a mettere a frutto. A quest'altra di Andò suggerito da Pappalardo che chiama Di Pasquale alla respinta di piede per poi passare a un tentativo di testa di Ecora che finisce fuori. Due interventi di Butano invece anzi tre, uno su cui Di e Iabichella nella stessa azione e uno su Accetta a metà tempo. Murate da parte del numero uno delle Real Trinagri rilevanti che evitano riaperture giochi poco gradite. Poi lo stesso attaccante ospite fa venire i brividi un bel po' consistenti calciando a filo dei due pali. Dal venticinquesimo i primi cambi dentro San Filippo per Pappalardo poi Randis rileva Solimene. Due terzi dell'attacco vanno a riposo ma la musica non cambia, è un episodio che non viene sancito come 3-0. Cross altissimo e lungo di Guarnaccia, tocco sotto misura sul secondo palo di San Filippo e respinta forse al di là della linea di porta. di un ospite, non dello stesso avviso l'arbitro Camelia di Acireale. Poi andò scende a sinistra, palla a San Filippo che la gira sul Randis controllo al limite destro a stamparsi sulla traversa. Finale con altri due cambi dentro Gurrieri e Peluso fuori Guarnaccia ed Ecora. Dunque qui sono gli applauditissimi difensori a prendersi la standing ovation come Di Stefano rilevato da Giuffrida sui titoli di coda. Sì è stata una vittoria molto importante comunque per lo svolgimento del camionato perché siamo là sopra e dobbiamo concedere tutte le catte per vincere e per poterci a casa questo camionato. Sì abbiamo gestito, al secondo tempo siamo andati un poco più, non dico molli però comunque sempre con l'intento di vincere la partita però più difensivi per coprire il risultato. Il prossimo obiettivo è vincere le altre tre partite, questo è ovvio, con più gol possibile e subito meno gol possibile e vince ovviamente questo camionato. Vittoria bellissima, strameritata, abbiamo giocato molto bene, poi abbiamo difeso molto bene, è stata una grande partita. In primo tempo avete fatto subito due gol, con la ripresa avete controllato però non avete sofferto molto? No, no, l'abbiamo sofferto perché fortunatamente abbiamo una difesa molto molto buona, non per questo siamo la seconda squadra con meno gol subiti. Sì al primo tempo abbiamo fatto due gol, siamo stati bravi, abbiamo saputo sfruttare le occasioni. Sì il nostro obiettivo è sicuramente ora vincere le ultime tre partite di camionato e portarci questo camionato. Grazie. Grazie. Grazie.